Il cane dava fastidio l'odore del cadavere. Per cui da lì avete avuto l'indizio per capire? L'indizio ce l'ha dato il cane stamattina perché se no in un posto così, come vede, è impossibile arrivarci. Ma manco avevamo pensato che potesse essere un posto così, grazie al cane fortunatamente e anche l'esperienza del conduttore perché siamo riusciti a portare a termine il compito che ci era stato dato. È stato il fiuto di Falco, il cane in dotazione ai cinofili dei Carabinieri, a sciogliere sei giorni dopo la scomparsa. Il mistero torno a Ennio Raponi, l'anconetano di 80 anni, uscito da casa domenica scorsa e mai rientrato. Eppure era a pochi metri dalla sua abitazione, in via Gentiloni, dietro ad un muretto della chiesa San Carlo Borromeo, nel quartiere di Borgorodi, ad Ancona. L'uomo potrebbe essere stato colto da malore nel giorno in cui si erano perse le tracce, poi appoggiatosi al muretto, scivolato e inghiottito dalla vegetazione. Sul corpo nessun segno di ferimento, addosso tutti gli oggetti personali, compreso un Rolex. Nelle coincidenze di una vicenda assurda e tragica, allo stesso tempo anche la presenza sul luogo del ritrovamento di un uomo del pesarese, definitosi sensitivo, poco prima della scoperta della cadavere. Sento il corpo di Raponi è nascosto dietro un muro, avrebbe detto ai carabinieri, poi appunto la scoperta. Subito dopo la scomparsa si era pensato ad una rapina finita male, un'aggressione, ma non un allontanamento volontario. Il caso era anche stato trattato dalla nota trasmissione di Rai 3 chi l'ha visto. Il corpo è stato messo a disposizione dei familiari, i funerali si terranno nella stessa chiesa che lo ha visto esalare gli ultimi attimi di vita.